Il comune di San Benedetto del Tronco informa la cittadinanza di un'attività restituita presso la palestra Salvatino d'Angelo di Sistema Sicilia del portiere agraria, unità di crisi alla quale ci si può rivolgere per ogni informazione. La situazione è comunque costantemente monitorata da protezione civile e forze dell'ordine. Si raccomanda quindi la massima tranquillità, invitando tutti a non percorrere le strade interessate dagli andare aventi. Il comune di San Benedetto del Tronco informa la cittadinanza che è stata restituita presso la palestra Salvatino d'Angelo di Sistema Sicilia del portiere agraria, unità di crisi alla quale ci si può rivolgere per ogni informazione. Grazie. 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 Grazie.